il pezzo ma puoi essere pure quello che hai basta che non hai l'ufficio così guarda qua no non è che è piccolo proprio vedi lo schienato in butta io devo fare così capito no ma sono piccolo proprio perchè non c'hanno il pezzo ma non c'hanno il pezzo non c'hanno non c'hanno il pezzo, non c'hanno niente ma io boh ma chi era clementino non c'hanno il pezzo è Gandalf che si è appiso il gatto goliardico non hai visto che mi ha fatto Gandalf quando sta Gandalf? sempre qua era lui pure l'amore mami ti fermo il clip gatto goliardico vicino non c'hanno non c'hanno hai visto? ok mamma che paura aspetta 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 che paura non c'hanno non c'hanno non c'hanno non c'hanno non c'hanno onas